Io invece, io facevo lo staffetto, io non stavo la ferma mai, io andavo da Reggio a Secchio, dopo perché poi è finita così, io andavo spesso a vedere, perché i miei mi mandavano, insomma va a vedere, allora dopo, dei ragazzi mi hanno detto ma tu vai su, magari ci devi portare in montagna, allora ogni tanto prendevo su qualche ragazzo, li portavo una volta lì, una volta là, secondo come arrivavano, magari dicevano beh allora ci fermiamo con questi partigiani, andavo molto lì da Don Carlo, che erano poi quelli lì, e allora li lasciavo lì questi ragazzi, poi c'erano i Davoli, Davoli, il comandante delle staffette, che era di Reggio, ed era proprio il padrone di casa dove era nata mia madre, allora dopo, niente, lui ha detto io devo andare in montagna, e lei ha detto con mia madre, dice io devo andare in montagna, vengo a casa vostra, e poi dopo di lì, allora diceva ma vabbè, dice va bene vieni che mia figlia ti porta su, e allora ci siamo andati, era un ragazzo di famiglia molto buona, molto, e niente, allora è andato su, è andato al comando unico, al comando unico, poi dal comando unico, lui si è trovato con Gordon, quello che è morto ieri, e dei ragazzi un po' speciali, allora Don Carlo dice io direi di affidarvi alla missione inglese, che cominciavano a venire giù dei paraconduttisti, allora infatti loro hanno messo a secchio, hanno messo il comando della missione inglese, con quegli affari lì da trasmettere, avevano, allora dice io vi appoggio lì, allora hanno scelto, fra questi dal comando unico, si sono fatti dare 23, 24 partigiani, fra quelli un po' scelti, quelli che erano già un po' che erano lì, che erano bravi, che erano, perché sai, purtroppo lì, i primi tempi specialmente c'era un po' di tutto, e allora, sai, loro volevano proprio delle persone molto serie, così, niente, e c'erano questi, questi 25 che sono andati sotto alla missione inglese, e dopo io, allora dopo ho cominciato a dire, ma adesso dobbiamo organizzare delle staffette, ma dice tu sei destinata a Reggio, solo tu, perché tu, c'era un comando qui a Reggio, e io dovevo andare da questi, lui già conoscevo, che c'era l'avvocato Grandi, Piccinini, che era l'architetto, il conte Calvi, erano sei, poi dopo due, uno l'hanno ammazzato, mi ha detto Mattia, e l'altro non so, ma erano sei subito, questi antifascisti, che avevano la piazza di Reggio, e allora io dovevo andare a casa, a casa là da mia madre, dai miei zii, che erano proprio nella casa di Davoli, di quello Giulio lì, di Chis, quello che è venuto, che ha poi fatto il comandante delle staffette, e ne avevo organizzato un bel pochino, però io, solo io dovevo venire a Reggio, perché, insomma, dopo avevano imparato che io riuscivo a ricordarmi, a fare le cose ben fatte, magari se c'eravamo in di più, invece io delle volte non scrivevo certe cose, certe cose le scrivevo nelle cartine, le quale le mangiavo, anche se mi dovevessero trovato, perché è come ricordarsi dei nomi tedeschi, delle cose così a loro, allora io, quando mi dicevano, guarda che per il tal giorno c'è un rastrellamento, lo comanda Dolman, lo comanda Sulman, che erano quelli i grandi capi che organizzavano i rastrellamenti, allora io quelle cose lì, quei nomi più particolari, le cose più importanti, le scrivevo su di fogli di carta sottilissima, perché contavo di mangiarle, poi se per caso mi trovavano. Io prima mi chiamavo volontà, no libertà, perché il primo me l'avevano dato, perché te lo danno loro i nomi partigiani, quando vanno lì loro ti dicono, allora a me invece mi avevo andato il nome Giorgio, e niente, poi me l'hanno dato dopo, il primo invece era libertà, no? No volontà, perché quello lì, e poi io non ci pensavo neanche che l'avessero scritto loro, invece l'hanno scritto non so chi, forse quelli lì dove c'era il ferito, che avevano scritto che sono venuta a casa così, ed è a Busana, poi me l'hanno dato, me l'hanno requisito al Binea, lì ancora su al Binea, quel primo tagliandoli, che io non ce l'ho, quel primo coso lì che l'avevano scritto qualcuno, che ne eravamo andate col ferito, con questo carnero, fino nel Mordenese, e poi dopo, e poi dopo che eravamo venute a casa, ma io sono venuta a casa, non mia sorella, io sono venuta via, dopo due giorni al massimo dovevo andare a casa a casa dire qualcosa ai miei, ecco allora era libertà mi sembra, io dei due non mi so proprio dire bene bene qual era, libertà volontà, aspetta, mia sorella si chiamava Foresta, lei gliel'ha messo subito, e anche a me avevano dato questo nome, ma l'ho tenuto tanto poco, che io poi non mi interessavo, anzi io non lo sapevo neanche, perché è stato su, ce n'ha un altro di quei ragazzi, lui un ragazzo di Parma, un ragazzo di Parma che sta facendo delle cose, non lo so, anche lui è andato su Busano a Castelnuovo, e lì a Castelnuovo ci hanno dato questi primi documenti, che io proprio non ho, e dopo allora io ho continuato, ho continuato con chi se lui mi ha detto, dai ti mettiamo il nome Giorgio, sono tutte donne, e tutti ti diamo un nome da uomo così, e con quello sono sempre andata.